Aspetta, come si fa? Ora ti da dire che questa chi le dà la lapide al zio sirve? Sì, ricazzo, non la facciamo una foto insieme. Se voglio la metto sulla lapide, giusto? Cosa sarà stata quella roba là? La roba militare, questa roba militare. Aspetta, 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 aspetta! Travi, travi, travi Aspetta, 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 aspetta